Musica Buongiorno amici e amiche di Volonright, siamo qui ai dialoghi sulla salute, in particolare la pillola di oggi intitolata Torino è una città in salute, siamo qui con Marina Merano che è responsabile dell'area politica e sociali, volevo chiederle come è possibile data l'emergenza caldo gestire appunto i cittadini, quali sono i consigli che si possono dare? Allora a Torino abbiamo un progetto da ormai 15 anni in occasione dell'emergenza caldo che vede il coinvolgimento di tutte le istituzioni e delle organizzazioni del privato sociale che si occupano gli anziani, in particolare si prevede che il medico di medicina generale che veda la persona anziana di cui si sta occupando in condizione di criticità possa segnalarlo ai servizi sociali, i servizi sociali insieme a una serie di informazioni che riguardano le sue problematiche e le sue condizioni anche sociali perché uno dei fattori molto importanti è il dato della solitudine, a volte gli anziani in questo periodo si chiudono in casa e praticano anche delle modalità che sono assolutamente non adeguate rispetto all'affrontare il tema del caldo e quindi avendo queste informazioni noi possiamo fare dei piani personalizzati che possono andare dal semplice monitoraggio telefonico invece al coinvolgimento di volontari che possono andare a fare delle visite domiciliari, portare l'acqua, verificare come si vestono, in che orari escono, che tipo di alimentazione fanno e questo nella situazione di tranquillità in cui è sufficiente un monitoraggio fino ad arrivare invece al coinvolgimento di figure professionali che possono prestare alcune attività per alcune ore della settimana o del giorno. In genere queste attività sono graduate anche a seconda del livello di calore. Noi tutti gli operatori sociali in questo periodo ricevono un bollettino del clima che ci dà la previsione a tre giorni dell'emergenza. In questo modo noi possiamo programmare un'intensificazione degli interventi anche rispetto alle situazioni che sono più a rischio. Questo si può fare solo perché mettiamo insieme tutte le forze. Io credo che un elemento fondamentale della salute della città sia il fatto che nella città si continui a lavorare insieme tra istituzioni e tra cittadini e istituzioni perché in questo modo si può garantire una presenza più capillare e evitare che qualcuno rimanga fuori dalla rete. Grazie mille. Alla prossima. Buongiorno a tutti amici e amici di Valorite. Siamo qui ai dialoghi della salute, in particolare la pillola di oggi che si chiedeva Torino è una città in salute. Siamo qui con l'amministratore delegato delle farmacie comunali Davide Cocirio a cui volevo chiederle come le farmacie comunali promuovono la salute in città. Bene, grazie per la domanda. Faccio solo una piccola premessa. Torino è una città in salute. La vita media è in continuo aumento e i cittadini hanno comunque un accesso abbastanza facile alle cure. Ci stiamo, come farmacie ma non solo, anche come altre strutture sanitarie, ci stiamo strutturando per cercare di fare sempre più anche la prevenzione. Per quello che riguarda la promozione di salute verso i cittadini ci occupiamo prevalentemente di prevenzione che può essere primaria, secondaria o terziaria. Nella primaria cerchiamo di favorire stili di vita che siano sani e quindi abitudini di vita che promuovano la salute. Organizziamo, ormai siamo al quarto anno rispetto a questa iniziativa, delle camminate con persone qualificate che aiutano le persone, soprattutto un po' avanti con gli anni, a mantenersi in movimento e quindi a promuovere uno stato fisico che favorisca la salute. Prevenzione secondaria la facciamo quotidianamente attraverso esami di screening per le più diffuse malattie che caratterizzano gli anni attuali, tra cui il diabete, le malattie cardiovascolari, la BPCO che è la broncopatia ostruttiva cronica, quindi malattie respiratorie. E prevenzione terziaria sulla quale stiamo cercando di concentrarci in maniera particolare in questo periodo, cioè la prevenzione circa eventi e complicazioni particolarmente gravi su persone che hanno già patologie conclamate. Questa, nello specifico, la facciamo seguendo in maniera più accurata rispetto al passato l'aderenza alla terapia dei cittadini. Attraverso un accompagnamento sia in farmacia, sia domiciliare con, a seconda della fascia di età interessata, app per cellulari per i più giovani e telefonate per le persone più anziane in modo da ricordare di assumere in maniera corretta e costante le medicine. Perché studi nazionali dimostrano che, soprattutto con device difficili da utilizzare, come quelli per facilitare la respirazione, diciamo che l'aderenza alla terapia sia al di sotto del 50% e questo ovviamente favorisce l'insorgenza di eventi acuti che possono portare, in taluni casi, anche al ricovero del paziente. Grazie mille a Davide Cucino per il suo intervento e alla prossima!